Il 23 dicembre del 1978, con l'approvazione della legge 833, nasceva il Servizio Sanitario Nazionale. Veniva così data attuazione l'articolo 32 della Costituzione, che concepisce la salute come fondamentale diritto dell'individuo e garantisce le cure gratuite. A 40 anni di distanza, il Consiglio e la Giunta Regionale del Piemonte hanno organizzato un convegno per ricordare l'importanza di una legge che ha realizzato un sistema sanitario equo e universale, accessibile a tutti, indipendentemente dal reddito e dalla condizione sociale e per riflettere sui problemi ancora aperti. Il sistema sanitario nazionale italiano va visto come una grande conquista collettiva, come un bene comune, che ha anticipato i programmi per i prossimi 10 o 20 anni dell'agenda sanitaria di tutti i paesi. L'OMS sta spingendo tutti i paesi verso sistemi analoghi, di cosiddetta copertura universale. Il sistema sanitario rappresenta un sistema universalistico di ampio accesso a tutti, alle migliori prestazioni disponibili, in particolare alle prestazioni più complesse, di maggior costo e di maggiore complessità. Questa è una grande conquista che l'Italia ha in qualche modo visto in anticipazione rispetto a diversi altri paesi, ha già 40 anni, vanno festeggiati e credo che sia una grande conquista. Dal 1978 il sistema sanitario è cresciuto, ha conquistato il suo posto in Europa e si è specializzato. Oggi l'Italia ha il tasso di mortalità più basso d'Europa e ha un'aspettativa di vita che per i trentenni oscilla tra i 49,7 e i 53,4 anni. Molto resta però ancora da fare, a partire da quella che è una vera e propria sfida per i prossimi anni, realizzare un sistema unico per tutto il paese, che risponda a criteri univoci per il paziente, modulando l'offerta sanitaria per garantire, ad esempio, la cura delle cronicità, uno dei problemi aperti, insieme con la mancanza di personale. Rispetto a quei anni fa c'è la possibilità di poter garantire a tutti, indipendentemente dal reddito, dal colore dell'appello, un servizio sanitario che complessivamente nel nostro paese è di buona qualità. Devo dire che questo vale in modo particolare per chi è più fragile, per chi ha più bisogno, per chi non ha reddito. È una conquista straordinaria, infatti bisogna stare attenti perché questa conquista bisogna mantenerla. Devo dire che ci sono molto spesso dei tentativi di scivolamento verso il privato, è chiaro che il sistema sanitario deve avere più personale, perché ultimamente c'è stata una forte riduzione, ma se questa operazione viene fatta io credo che possiamo garantire ancora questa grande conquista sociale.